Si è conclusa la terza edizione del Raduno Equestre organizzata dall'Associazione ASD Nuovo Gruppo Equestre Monterice in collaborazione con il FITETREC Ente Comitato Regionale Sicilia Pantalica e il Parco Archeologico di Segesta. L'evento è stato parte integrante dell'iniziativa Italia Cavallo promossa dalla Federazione Italiana Turismo Equestre Trek attirando un gran numero di appassionati e amanti del turismo a cavallo. Durante i due giorni del Raduno ben 91 cavalli hanno preso parte all'evento. Penso che sia andata benissimo, i cavalieri si sono divertiti tantissimo. Ringrazio il Presidente Nazionale e il Commissario Regionale che mi ha dato questa fiducia per organizzare questa unica tappa in Sicilia. Poi ringrazio anche Lady Chef che è stato il tramite anche di una degustazione all'interno del parco. Il direttore del parco archeologico, l'architetto Luigi Biondo che ci ha dato anche questa grande disponibilità per essere qua presente in questo posto bellissimo, unico e magico perché la storia lo dice. Il percorso nelle due giorni sia oggi che ieri è andato benissimo, i cavalieri si sono rilassati, avevamo un numero abbastanza proponente, 50 cavalli, però è andato bene, ci siamo divertiti. Penso che è da ripetere. Non è mancata neanche l'occasione per degustare le eccellenze della cucina locale. La tradizione culinaria siciliana è stata esaltata da Rosi Napoli dell'Associazione Lady Chef Sicilia e Salvatore Adragna dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi che hanno deliziato i partecipanti con piatti tipici del territorio. Abbiamo deciso di accompagnare i cavalieri in un viaggio attraverso la scoperta dei sapori del territorio partendo da uno dei piatti principi del nostro territorio, la pasta con l'aggia pistata. Qui non abbiamo preparato la busiata ma abbiamo fatto degustare il pesto con del pane di grani antichi siciliani perché questo territorio è proprio espressione delle meraviglie che abbiamo dai grani al pomodoro al basilico, l'aglio rosso di Nubia, quindi proprio un viaggio attraverso il territorio. Abbiamo degustato dei formaggi come il cotonese e il nostro pecorino d'op, la ricotta di pecora dei pomodori essiccati al sole e poi serviti con dell'olio extravergine d'oliva delle nostre terre e poi ancora delle olive, insomma un viaggio nel busto, la caponata che è uno dei piatti simbolo della Sicilia e anche un couscous freddo a base di verdure. Un'esperienza unica che unisce equitazione, natura e cultura che si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura e del turismo a cavallo, offrendo non solo una fuga dalla quotidianità ma anche un'immersione totale nel patrimonio naturale e storico della Sicilia. Grazie a tutti.